Dall'8 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020 la luce di Francesco, un'installazione luminosa di 3 metri, illuminerà le notti del Natale dal promontorio agropolese. L'installazione voluta dall'Associazione Spirito Francescano si inserisce nelle celebrazioni degli 800 anni dalla presenza di frate Francesco ad Agropoli e dall'incontro con San Daniele Fasanella. Dunque, dall'8 dicembre fino al 20 gennaio sarà possibile ammirare la sfera luminosa con all'interno una scena che rievoca visivamente quella fatta all'estire da frate Francesco a Greccio nel Natale del 1223, dove il Santo predicò al popolo parlando con molto trasporto del mistero di quella nascita. Questa iniziativa è un'altra iniziativa che si aggiunge al comitato delle celebrazioni degli 800 anni dalla presenza di San Francesco ad Agropoli e dall'incontro con San Daniele Fasanella. Questa iniziativa è stata concepita per ricordare il presepe di San Francisco a Greccio nella notte di Natale del 1223. Quindi è un riferimento storico che noi ripercorriamo con questa iniziativa. È una struttura luminosa in cui saranno collocati alcune figure. Ecco, inquadrato adesso dalla telecamera, vediamo la figura di San Francisco, il bue lasinello, la manciatoia, la manciatoia che lì è rappresentata col bambino, ma nella realtà di Greccio il bambino non c'era. Perché San Francisco, poi si è parlato che San Francisco ha inventato il presepe, sicuramente è stato l'uniziatore, ma non aveva intenzione di fare un presepe. Aveva intenzione di rappresentare il mistero della nascita di Gesù Cristo in quel modo suggestivo. E aveva chiesto al Papa Onorio III di poter rappresentare a Greccio quella rappresentazione che poi in effetti fece. Questa è una struttura realizzata in carpenteria di acciaio con un vetro plexigas, come vedete nell'immagine, e sarà illuminata dalla ditta Artelux, che mi piace ricordarlo, forse non è molto conosciuto sotto molti aspetti Artelux, ma per me è il mago della luce e ci accompagnerà in questa realizzazione. Soddisfazione da parte del primo cittadino Adamo Coppola per questa nuova iniziativa che caratterizzerà il Natale agroporese. Secondo il sindaco, l'installazione della sfera luminosa riuscirà a creare interesse sotto diversi punti di vista, attirerà l'attenzione dal punto di vista storico-culturale e religioso e di sicuro l'installazione non passerà inosservata ai tanti turisti che durante il periodo natalizio giungono in città. Questa iniziativa che va ad essere realizzata proprio nel periodo natalizio rende anche e ci aiuta anche a raccontare della nostra città. Noi stiamo cercando di prepararla per il Natale nella maniera più attrattiva possibile con diverse iniziative che poi vi presenteremo e mi farà piacere magari venirevi a trovare nuovamente qui in studio per potervele presentare. Questa diciamo si colloca tra le nostre iniziative ed è un'iniziativa di spicco perché riesce a mettere insieme diverse cose. L'aspetto certamente storico-culturale, l'aspetto religioso e perché no, anche l'aspetto strettamente turistico e di conoscenza della nostra città attraverso quello e i meccanismi virtuosi che certamente questa iniziativa genererà.